Buonasera signori della giuria, ben arrivati a questa quarta o boh quinta edizione del Tribunale format apprezzatissimo dalla Corte Suprema ma che purtroppo ahimè non si poffa sempre perché questo format è tutto dovuto dalle richieste di sban che arrivano dai casi umani che abbiamo da analizzare quindi ahimè questo che state vedendo è un format mega esclusivo che si è fatto veramente poco nel corso della mia vita ok? Vi spiego un pochettino come funziona il Tribunale, il format del Tribunale e poi iniziamo ad analizzare i nostri casi umani ok? Benissimo! Allora signori come funziona il Tribunale? Io sono il giudice, questo è il Tribunale, voi siete la giuria io vi presenterò e vi esporrò tutti i casi in questione alla fine di tutta la lettura di tutte le cose che hanno detto con orari, date, certificati, con tutti i documenti alla mano, delle cose che sono state scritte nei miei confronti o forse anche di qualcun altro, verrà ammesso un sondaggio, verrà ammesso un sondaggio per voi che dovrete votare se riammettere, riformare oppure no l'imputato in questione ok? Possiamo far entrare il primo imputato, grazie il signor Simo G, l'anno scorso si è impigliato sto cazzo mamma mia, 2019, signor Simo ciao, ammazza se è buona nel 2019 era ancora una bella ragazza che proprio mi suscitavo questo, che devo fare poi mi sono invecchiata mi taggava e mandava le banane, mi mandava le pesche le modi con del culo, deve essere pubblica per me, ecco, domenica si è rifatta il culo ma perché? ma perché stavo facendo in quel momento, scusate ma che me si vedeva nei chiappe? ma perché me si piglia sempre sto c***o? è sparito, è sparito dal 2019 che questo tizio non si vede improvvisamente ha chiesto di essere riammesso non so quando, l'anno scorso me sa posso essere riammesso? puff, farò il bravo ma io non so cosa dire Simo ha avvelenato, ba, da una parte ha passato la pubertà che ne so ban, ammazza siete avvelenati ma questo è niente ragazzi ma se mi bannate Simo G Simo G, viscitone per carità cioè, con tutto il mio rispetto però, insomma, vabbè, vabbè, vabbè no, no, ma qua non è democrazia è giuria democrazia siete voi che votate, io che espongo rifiutare però siate parsimoniosi signori perché veramente, rifiuta la giuria ha detto no può entrare il secondo imputato della giornata? il signor Cane Maiale è il nome tutto un programma è stato bannato da Sniper Kira è proprio il 2018 il 17 gennaio nessun commento moderatore Cane Maiale che può scrivere se non Maiala Sniper Kira l'ha bannato perché è entrato e non ha scritto niente solo Maiala per essere riammesso scrive come messaggio Miau cioè, praticamente, Cane Maiale Maiala, miau cioè, vecchia fattoria iaiaia ho, praticamente cioè, fissata a zoofilia c'ha questo un corpo non lo so io che problemi c'ha ban totale rifiuta risposta Bau così la prossima volta si fa un'altra accanto e scrive Cagna invece di Maiale e andiamo avanti con il prossimo terzo imputato Pupigno trattino basso 2 dieci mesi fa questo è entrato nel 2020 il 22 giugno 2020 questo è entrato ciao amore mio alle 15 e 20 e spamma una serie di chiappe giggins una raffica sempre nello stesso modo scrive ma che cazzo dici a Vincent poi tagga Lady e dice ma che cazzo dei guardi non leccare il culo a Dark Goblin a Lady io sono il producer dei Gali poi ha scritto io ce la faccio ragazzi non mi posso prendere una depausa per favore io già comincio così non ce la posso fare sono il producer dei Gali io so azia dei Trump porco zio aspetta che non riesco a mettere gli occhiali hai rotto il cazzo De Faccio Banna a Lady 89 Franco l'ha bannato nessun commento moderatore il signor Pupigno per scusarsi e chiedere la riammissione scrive ero frustrato direi un calorosissimo ban rifiutare ha detto Gali di no oggi sono 20 sti soggetti ragazzi sono 20 quindi toccate a sé velocemente Fulmine di Pace il signor Fulmine di Pace si può accomodare in aula grazie si segga si segga lì da quella parte può sedere lì Fulmine di Pace grazie è imboccato un chat il 3 luglio del 2023 quindi anche recente anche recente Fulmine di Pace scrive in questi anni non hai trovato di meglio da fare 2023 ai 21 e 0 sempre lo stesso minuto ok spero ti duri questo che cosa ci porta a pensare signori che se il signor Fulmine di Pace ha commentato lo stesso minuto con due frasi diverse vuol dire vuol dire che lui non ha neanche sentito la mia risposta frate l'11 luglio ritorna rompe il cazzo perchè non gli ha abbastato scassame i loioni e scrive se te prendo ti do una spettinata che ti rifaccio tornare mora ti faccio la doccia alle 23 e 31 siete così disgustosi che manco vostra madre vi vuole cazzo ma che vanno insegnato ma che vanno insegnato ma che vesepia e il 12 luglio torna di nuovo a rompere i coglioni ma che cazzo a godò prima o poi ti do una spettinata anche da 3 metri di distanza ostia altro che l'una niente lui ha deciso che mi deve spettinare i capelli non si è capito per cazzo muore dai capelli mia questo e ritorna da collasse a godò prima o poi ti do una spettinata ma sei serio Fulmine che poi se te chiami Fulmine di Pace io credo che la spettinata ti dai giusto da solo perché non penso che tu sia di grandi prestazioni amore mio e Lampina giustamente si è scassata il cazzo e l'ha eliminato eliminato da Lampina dopo 3 minuti di ban ha scritto ma dove vai puntini puntini non so a cosa ti riferisse lo rielimina Lampina aspetta che poi dopo 4 minuti perché poi l'elimina ma non è che è bannato che donna svegliata con una doccia infinita ostia ma che ci viene ostia che male pussa di culo probabilmente del culo tuo pussa questo comunque è gente che praticamente ha dei fetish va bene avere i fetish però non dovete cagare cazzo alla gente che non conoscete cioè vi trovate una compagna un'altra di ostia che gli piace fare salatoccia sbettinare i capelli e glielo vai a dire a lei ma non è che potete andare in giro alla gente che non conoscete sta roba ma come cazzo ma come vi viene in mente 21 e 12 sei un po' logorroica chi te prende ha un bel da fare è per questo che sei single sei anche offeso sono logorroica e quindi non mi sepia nessuno però fulmine de pa io credo che sia più fattibile che qualcuno che parla normale sepia si trova un fidanzato una fidanzata piuttosto che uno che non parla altro sbettinare i capelli è docce mamma mia ragazzi fulmine di pace ma vattene a fanculo per essere per essere riammesso mamma mia rifiuta signori della giuria calma calma in chat abbiamo il prossimo imputato che cazzo guardi e allora già cominciamo molto male che ti fai un nick che si chiama cazzo guardi del 2023 primo messaggio 2023 19 luglio ma a luglio che succede ah chiudono le scuole zio treno entra le 21.52 cazzo guardi e scrive muoio un po' di modi un po' di modi che si gioca allora basta solo che la popolazione cresca ci ho giocato shock poi vabbè n word droppata così a caso e chiaramente bannato da degrado il signor cazzo guardi per essere riammesso scrive non ho offeso il creator non ha scritto così non ho offeso il creator ho scritto c e t o r perché mi sta molto simpatica io stimo verso di lei se ho scritto qualcosa che l'abbia offesa o che non dovevo dire chiedo in mente scusa a tutti e soprattutto a kodomo allora guardi il problema non è che ho offeso qualcuno è che hai detto una parola altamente bannabile zi però di fatto lui non non ha insultato effettivamente nessuno non ha detto nulla diciamo che non si è mai riferito a me in modo scorretto ma ha scritto questa non so per quale motivo sicuramente non è una cosa bella lui sembra un patatino dopo fulmine spettinatore veramente cioè riammesso ok ok allora prossimo imputato abbiamo squal 297 del 2022 l'11 dicembre rientra fa come ti sta sembrando questo depallisto scrotocol 3 aprile 2023 ritorna dopo una serie di messaggi completamente normali probabilmente in tema con quello che stavo facendo improvvisamente gli escorregge il cervello e entra alle 20 e 24 della 3 aprile dice ma la tua fre sgocciola lampina l'ha eliminato lui per essere riammesso scrive e dai con l'h e dai non mi dire che te la sei presa stavo a scherzare mo io vediamo se posso magari andare dalla madre e gli dico ma la tua fregna friccica vediamo se la madre gli dice pensa che io sia una cafona oppure se gli dico ah si stavo a scherzare ma che scherzo è ma come scherzate ma che scherzo dovrebbe essere ma come ma io mi chiedo come vi adattate alla società se pensate che una roba di genere possa essere uno scherzo a una persona fatta che non conosci non sai minimamente chi cazzo sia gli dico ma manco se me lo dice il mio amico mio gli dico ma che te scorregge il cervello io gli do un pizzone ma che stai a dire deficiente gli dico pure capito ban stavo a scherzare via rifiuta sto coglione patrons 98 ma che c'è pure la foto frate ma che fai mensurti che mi fai vedere pure la faccia tua frate no dai non mi fa questo regalo arriva in chat a proda in chat il 22 gennaio del 2019 entra alle 15.09 scrive in caps sesso sesso non scrive più niente e ritorna l'8 aprile del 2019 alle 2.44 e scrive eliminato da franco bannato da franco mi sembra eccessivo franco però eh perché per un chettette mi sembra un po' il time out ok ma un ban definitivo franco mi sembra un po' esagerato eh per farsi riammettere scrive chiedo scusa alla fine non è colpa sua solle ormoni però almeno ha chiesto scusa ormoni o un conto educazione è altro sì va chiaro sì chiaramente è una questione di educazione ovviamente è una questione di educazione però purtroppo l'educazione non arriva a tutti subito magari c'è gente che passa dei periodi di maleducazione poi con il tempo capisce cioè alla fine non le cazzate le facciamo tutti non penso che sia una cosa grave questa beh capisci un attimo che ti sgocciola una patata e che tette sono due cose un pochino un pochino diverse fra te cioè dai non è la stessa cosa è molto più grave il primo dai abbia pazienza su riammettiamolo prossimo Ivan Marti 04747 Paolo 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 vai se ce l'aveva con questo Paolo si taggavano ah ah io mi dissocio perché te hanno bannato invece l'ha mandato tutto cancellato ok il moderatore ci spiega che cosa aveva fatto lui e Paul Mond si erano messi d'accordo per scrivere una bestemmia razzista c'è proprio l'apoteosi della terribilità Ivan Marti per farsi riammettere scusarsi non lo so messaggio di riammissione mi hanno hackerato l'account per una barra due settimane vi prego mi sbannate io adoro codomo cuoricino Ivan va bene Ivan va bene tutto va bene guarda ma mi hanno hackerato l'account frate da mio cugino con la playstation 7 mi sembra un po' una cazzata non vorrei Ivan esse di cose che però secondo me è una cazzata ora è sbagliato si è inappropriato si però magari con il tempo capiscono che queste cose non vanno dette niente rifiutato invia rifiuto addio allora signori prossimo imputato dreabonag 28 eccolo qua il signore si può accomodare mi sta dando delle indicazioni per un gioco forse puoi andare nel corridoio vai tranquilla che l'importante è che prima stai bene tu carino semplice easy easy che è successo poi che è successo io non voglio veramente capire calma non dire le parolacce basta parolacce basta parolacce è stato bannato male educata allora cominciavo a perdere colpi ma è stata la motivazione poi per cui si è stato bannato lo so che sicuramente e probabilmente in quel momento mi ha anche dato fastidio perché quando dico le parolacce non è che voglio dire parolacce per forza è che sto in un momento di enfasi e magari mi scappa la parolaccia o magari sto giocando all'horror e mi viene l'ansia e dico la parolaccia quindi se tu mi dici non dire parolacce oppure stai calma io mi incazzo ancora di più comunque per scusarsi scrive mi scuso per l'inconveniente ma mi era stato rubato il profilo e non ero io tutti questi ladri di profili beh però dai non ha fatto niente beledete ah si siamo ipocriti riammesso su via andiamo avanti prossimo puntato nick23 trattino basso 95 cariche precedenti 2020 addirittura 2020 e signore qua e che che nick 2395 scrive alle 13.57 punto iscrivativo telegram punto iscrivativo digi sub ritorna il 7 agosto dello stesso anno e scrive punto iscrivativo telegram degrado abbannato nick andiamo a vedere perché ha dato fastidio con commenti inopportuni sul gruppo telegram ad una ragazza dopo che è stato avvisato ha continuato per di più ha tampinato i moderatori in privato per essere riammesso e dai ha scritto poi per essere riammesso e dai che cazzo di è non vedo nulla io di questo però mi fido mancano le prove è vero è vero ha ragione mancano le prove effettivamente sì però io comunque mi fido dei moderatori tranquillamente ban perfetto rifietare perfetto topone da water oh mio dio santissimo non mi fa vedere prima mi sembra un 2023 scrive alle 22 e 21 dopo un'età va per sei molto bella ok il 31 luglio comunque luglio è un mesaccio eh luglio è un mesaccio ragazzi e alle 22 e 04 ritorna e scrive sempre ciao codomo sei molto bella va bene 6 agosto del 2023 alle 20 e 54 ritorna ciao codomo sempre più bella un bravo ragazzo molto cortese educato di un certo spessore di un certo elevato rango della società ritorna completamente il mese dopo il 6 settembre alle 23 e 37 scrive ciao che bel viso il 7 settembre sempre del 2023 alle 21 e 23 topone scrive ciao codomo ammazza quanto sei bona comincia a andare oltre 21 settembre 2023 alle 21 e 27 topone ciao codomo sei bona eliminato da lampina alle 21 e 28 topone svela i suoi segreti più profondi i suoi sentimenti più reconditi e scrive a me piacerebbe fare l'amore con te va bene topone organizziamoci topone topone organizziamoci quando vuoi romantico amore amore mai visto topone mai visto topone ma lui vuole fare amore 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 elevato di un certo rango è romantico lui è uscito da bridgerton è uscito il topolone davater la cosa bella in realtà è il conflitto tra il suo modo così aulico di dichiarare i suoi sentimenti e gusti più profondi al nome al nick topone davater tipo una torca a tinta all'olio per te vedere scesso delle fumiglie però lui vuole fare l'amore mi piacerebbe ha detto a me piacerebbe non so a te ma a me piacerebbe nel messaggio per essere riammesso scrive è proprio buona ma chi ti vuol dar torto topone ma chi ti vuol dar torto su questo topolone mio che gnoccola guarda guarda quanta roba guarda che lo biasimi topolone eh no riammesso ma questo è un miracolo topolone abbiamo riammesso topolone ah qua non credo che saremo tanto altrettanto fortunati il pisello 98 prossimo imputato se si può sedere il signor pisello 98 può acquedarsi nel teletribunale prima fila grazie vicino all'avvocato avvocato culo 83 grazie siamo credo nel 2023 comunque non mi fa vedere la prima data ma va bene alle 21 e 50 il pisello 98 scrive è sbagliato così lui esordisce così non gliene frega un cazzo ma altrimenti si chiama pisello 98 cioè che vuoi fare eliminato da ace alle 21 e 52 dopo due minuti sparali nel pisello così non può fare figli due faccine che ridono poi tagga sempre nello stesso minuto un'altra ragazza scrivendoci sta un minuto dopo subito accollato a sono Sofi scrivendo Sofi seguimi su IG il pisello 98 dove 98 non è l'anno di nascita ma un'altra cosa sempre a Sofi si riaccolla ti do quello del mio amico che è con me anche qui c'è della discendenza nobile Carlo Ursino a me mi ricorda qualcosa non lo so vabbè incontri moleschi più che altro vabbè dopo un'ora e più scrive ma mi sembra di aver visto prima uno col pisello di fuori niente lui è fissato con i piselli allora abbiamo un attimo già capito quale è l'andazzo il 24 aprile del 2023 quindi una sera una ventina di giorni dopo scrive e viene automoddato cioè automoddato qui non interviene nessun mod è l'automod che interviene scrive purtroppo ho un problema ho il pisello duro e scrive due volte e in più poi Lampina ci mette il carico sopra lo banna definitivamente il signor pisello 98 per scusarsi e farsi riammettere manda questo messaggio scusate ragazzi avevo solamente visto uno col pisello di fuori non avevo dubbi e ho chiesto semplicemente se fosse bannabile non essendo su twitch da molto signor pisello 98 mi ascolti lei ha la benché minima idea riconosce come legge riconosce come legge e come reato atti osceni in luogo pubblico signor signor pisello 98 a presente cosa significa signor pisello 98 e che significa è che le nudità sono considerate oscene sia in luogo pubblico automaticamente non vedo perché twitch dovrebbe consentire una nudità e un'oscenità del genere signor pisello 98 abbiamo bannato il signor pisello 98 che ormai andrà probabilmente lo troveremo in qualche parco col pisello all'aria pensando che sia una cosa normale rifiutato e via house 79 ok primo messaggio non mi fa vedere la data ma entra nel 2022 più o meno alle 21 e 41 il signor house 79 scrive allora si è affrizzato per un attimo comunque sei la migliore codo ai 44 tre minuti dopo scrive ti posso dire sei la migliore streamer che abbia mai visto è il 31 gennaio domenica 22 entra sempre verso le 9 e 30 scrive ciao ciao codo purtroppo ho preso il covid basta se ne va giustamente ha preso il covid e è stato malato per 5 mesi 4 mesi perché ritorna l'8 maggio 2022 scrive bella codo come stai dopo 2 minuti scrive ho mandato accidentemente delle foto molto intime su IG non so come fare le hanno ritoccate e me le hanno mandate in direct un sacco di persone come faccio aspetta signor house mi scusi non ho capito la dinamica della faccenda ci sono delle dinamiche un po' strane perché lui manda accidentalmente delle foto molto intime su IG che vengono ritoccate in che modo vengono ritoccate tipo accidentalmente però le manda non è voluto accidentalmente potrebbe essere beneficio del dubbio potrebbe essere e spamma di nuovo questo messaggio per 3 volte viene eliminato poi sparisce e ritorna quasi un anno dopo il 29 marzo del 2023 l'ultima apparizione è stata l'8 maggio 2022 scrive alle 21 19 house mi esci le tette please sei una figona su gunno a mamma che lingua è aramaico sardo e che vuol dire ma come mi ha insultato la mamma e che vuol dire la figa di tua madre ah ho capito però il senso forse mi esci le tette please sei una figona su gunno a mamma però non ha senso perché scusate prima mi dici sei una figona hai detto no ma è tipo è tipo morta tipo noi diciamo mortacci tua che fregna capito c'è però mortacci tua è una cosa un insulto credo che sia inteso un po' così è un complimento mi accorgo oggi che sono stato permabannato il messaggio lo scrisse un mio amico non io ah ma allora scusa nessun commento moderatore ragazzi io cioè io sono veramente sono stravolta io sono mi so per togliere la parrucca veramente e strappare tutti i capelli che ho sotto guarda veramente non so più che dire non ce la faccio vi giuro guarda che è difficile ho so 8 anni che sto qua a leggere ste cagate ban bannatissimo rifiutare rifiutare allora exide 71 signore exide si prego si può accomodare per favore questo exide credo che sia veramente uno dei quelli pesanti proprio che t'accolla ti s'accolla proprio per il pippone di quelli proprio che veramente alle 21 e 20 5 mesi fa comunque mi sa mi sa che è di quest'anno scrive taggando debbie ma che te frega a te poi e comunque sono 10 minuti e non 2 ore che sono qui se sono innamorato di lei le posso dire ah ma non si può dire non si può vedere quello che ha scritto prima se vede che debbie ha scritto qualche porcata sicuro e debbie ha scritto qualcosa e lui ha scritto a debbie ma che te frega a te comunque se 10 minuti non 2 ore sono qua sono innamorato di lei posso dire le posso dire un'offesa oppure gelosia come dissero le cipolle siamo nati per soffriggere questo non può come abbiamo potuto bannare con tanta saggezza e filosofia intrinseca ma che è sto detto poi mi mandi un bacio per favore scrive dopo 10 5 minuti cosa ho detto sono stato volgare assurdo io non so veramente più come sia possibile che uno non può più molestare una persona in santa pace la gente è pesante quando dice cose pesanti spiegami i miei messaggi cosa ah forse che ho detto sei pesante spiegami i miei messaggi cosa hanno di brutto però c'è da dire una cosa purtroppo non mi carica i messaggi prima di lui che dice che è una persona tranquillissima che mi sta solo facendo dei complimenti che mi ama e basta dalle 9 e 4 lui entra e comincia a scrivere ciao sai che sono innamorata di te mi piace tantissimo ti amo davvero cuori ciao mi vedi sono Salvatore di Torino ma cosa è capitato non dirmi nulla di brutto perché ci sto male o di questo me lo ricordo io un cagnolino ho avuto tanti gatti amo gli animali una volta ho picchiato uno che picchiava un cane il suo cane in un giardino un coglione pure censurato io pure vado in palestra oggi tre ore di panca tre ore di panca frate butti ai bracci dopo mi sono svegliato e sono tornata a casa io ho visto il tuo culo in foto e devo dire che è molto bello allora non ho capito il signore Xside vorrei capire questa cosa sei fidanzata ti voglio sposare che mi dici ti dico sì Xy ma cioè voglio di ma come fai a non dir sì cosa vuoi dire coso ma che te frega po ok adesso siamo recuperati la chat adesso ok quindi è per questo che a una certa Debbie giustamente ha detto oh ha rotto il cazzo lei ha detto i coglioni e lui ha cominciato subito sulla difensiva ma che volete io non ho fatto nulla io la amo ritorna ma io non sono un bambino che devo farmi minacciare per dei messaggi che non hanno niente di male non sono né volgare né maleducato ti seguo su youtube e mi sembravi una donna simpatica e che sa pure scherzare sapessi io quanti problemi che ho guarda sì ti posso dire che un po' se vedono già e quante tragedie che ho avuto che non ci crederesti nemmeno la tua risposta mi fa cadere le braccia come no non ci posso dai no no perché dai no non posso non posso tollerare questo peso sulle spalle non posso pensare di averti fatto cadere le braccia no è finito l'amore no perché mi ha lasciata che io ho fatto ha scritto poi un panartro papiro per essere riammesso a me mi servono duvide per poter fare sto format e meno male che lo faccio una volta all'anno guarda sono stato bannato senza avere possibilità di replica guarda sì hai scritto anche troppo per quanto mi riguarda mentre Codomo da grande donna educata mi diceva chi te secula io sentivo ma non potevo rispondere non mi interessa essere di nuovo riammesso tranquillo nessuno te l'avrebbe riammesso non vorrei seguire mai più un elemento come quella che pure voi suoi scagnozzi dal banno facile il banno e blocca è sempre nel torto perché non ti hai argomenti siete ridicoli voi e la borgatara borgatara sarei tu e quel sottopalla fra di ciò che te ritrovi primo secondo mio caro ex side 71 ti volevo informare che quello che tu hai fatto mio caro è molestia verbale io non so chi tu sia tu non sai chi sono io anche se io sono dietro una telecamera sono su uno schermo e tu comunque dietro una tastiera dice comunque la regola della realtà se tu mi vieni a scrivere determinate cose senza che io ti conosca ok e mi dici amore mio ti voglio sposare hai un bel culo tutte queste cose è molestia ma io credo che stia comunque già perdendo tempo a spiegartelo perché non penso che tu ci possa arrivare questa roba qui quindi ti ripeto chi te sei in culo exi vatti a far ricoverare e vatti a fare un bel corso di riammissione nella società perché io credo che tu non sia minimamente in grado di starci dentro va bene io lo rifiuto perché tanto insomma è inutile anche stare a votare quattro mesi fa mia trattino basso nonna entra in chat ciao codo posso succhiarti il pisello no è troppo grande per la tua bocca come non posso succhiare il pisello il pollicione del piede va bene il succhiato è tuo ma che vuoi dare il pollicione mio ma che vuole quello mi vuole scompire i capelli quello mi vuole fa doccia questo mi vuole succiare il piedone ma che vuole davide a mia gente ma che cazzo mi vuole si sono drogati veramente di boh quindi posso ciucciarti il pisnellone il pisnello dai ma dai il pisnello ma ah si il pisnello si scusa non l'avevo capito bene dai per favore mi basta anche solo una leccatina qualcuno regali un calippo a mia nonna che ne so vabbè vado a cercare un pisnello da ciucciare poi forse torno dopo ciao è tornato dopo un'ora si quasi due ciao sono torncaps ciao sono tornato ora posso ciucciare il pisnello guarda tu mi odi annato definitivamente da franco il livello veramente di pazzia di follia che c'è online si in manicomio non si vede il messaggio per essere sbannato è ma stavo a scherzare e poi non stavo dando fastidio a nessuno no figura di no stavi solamente spammando che volevi ciucciare i pisnelli i ditoni e cose alla gente se mi sbannate grazie altrimenti pace non ha bisogno di noi la nonna mia nonna non ha bisogno di noi è un uomo di alta classe di livello noi ci ridiamo e scherziamo sopra ma i potenti scenari sono due o sono ragazzini che si divertono con cose che non fanno ridere e fanno ridere solamente i bambinetti però si divertono così perché non hanno ancora il cervello sviluppato oppure sono persone con dei problemi seri veri, reali e che non il cervello non si svilupperà mai quindi cioè dalla parte consideriamo anche questo consideriamo anche questo che è possibile che ci sia gente che non ci arriva proprio perché non ha la capacità mentale di arrivarci sì sì ma è palese che ci sono un sacco di ragazzinetti stupidi che si divertano da scrivere queste cose magari ridono da soli me li immagino che ridono adesso scrivo ancora dopo me li immagino tipo così ban rifiutare mia nonna le capisnelli invia rifiuto Doni Don il flammer già il nome non promette bene Don il flammer il minchia quattro mesi fa questa persona ha richiesto di essere riammessa ma il messaggio incriminato è del 2019 sì come stracazzo gli è venuto in mente di fare la richiesta adesso vabbè alle 14.55 Don il flammer entra in chat scrive il 7 novembre 2019 scrive se ti alzi e balli ti do 50 euro e sì certo lui sta al nightclub mi sordi nelle tette mette nelle mutande io boh veramente non lo so guarda che cazzo vedi il cervello delle volte bro compro a te e famiglia se voglio mamma mia sì veramente poi messaggio per essere riammesso attenzione che qua c'è del plot twist attenzione giuro su dio non so quando e come ho scritto ste cose la seguo su tiktok prima di andare a dormire per favore sbannate non scriverò più cose del genere sto male hai capito qual è la dinamica della cosa zitti aspetta calmi questo nel 2019 è entrato probabilmente c'avevo qualche tettate fuori qualche cosa che richiamava l'attenzione di un certo tipo ed è entrato e ha scritto sta roba è stato bannato e gli è fregato un cazzo a nessuno quattro mesi fa vuol dire che adesso recentemente lui mi ha ritrovato mi ha ritrovato su tiktok per qualche video prima del vid dei video degli horror dove mi ha visto che lo faccio ridere tutte quante queste cose qua è ritornato su twitch per vedere il canale e si è reso conto che ero la stessa persona che lui ha flammato anni e anni prima solamente perché probabilmente mi aveva mi aveva visto boh succinta perché prima mi ci vestivo molto di più così no hai capito questo vi farà ragionare su una cosa molto importante l'abito non fa il monaco lui una volta è entrato mi ha visto magari che ne so con la tetta all'aria con la scollatura e avrà scritto sta cosa qua ok sicuramente senza sapere chi fossi senza sapere il mio contenuto senza sapere niente e mi ha subito targettizzata come quella che se te do i sordi tu balli e sei una puttanella che si muove e fa le cose per soldi invece adesso che segue i miei contenuti ha visto veramente che cosa faccio che persona so che tipo di intrattenimento faccio al di là dell'aspetto fisico e ha detto ma com'è possibile mi fa ridere da morire com'è possibile questo dovrebbe far riflettere su quanta gente ha dei pregiudizi e magari ti subito ti mette in una capito in una categoria senza nemmeno darmi una chance capito però a Donnie Flammer l'abbiamo riammesso alla fine riammesso riammesso prossimo imputato si trattino basso scopa trattino basso 61 71 scusate si scopa 71 ti hanno regalato un uovo scrive adesso che mi ci fai pensare ieri ho ascoltato una canzone che fa you are my sunshine my only sunshine Codomo se tu non aprivi twitch diventavi Roseville Lane cazzo mica male adesso che mi ci fai pensare hai ascoltato ha riscritto di nuovo Codomo se non aprivi twitch diventavi Roseville Lane l'ha scritto penso uno due tre quattro non lo so ieri Gesù ha provato a rapirmi mi sono salvato grazie ad una tua live questi sono funghetti allucinogeni pesanti mi riammettete please oddio santo ragazzi ma come mai c'è sta gente in giro mannaccia puttana io non so che dire guarda vi giuro l'ho salvato da Gesù che non è mica costata poco eh riammesso comunque devo dire che quando votate i riammessi siete sempre di meno siete sempre un po' un po' così questo è del 2018 il mese scorso mi ha fatto la richiesta di sban cioè sto messaggio è stato bannato questo tipo è stato bannato nel 31 marzo del 2018 cioè frate questa è roba preistorica alle 4 e 54 del mattino ma che cazzo dei orari facevo ma completamente dei fori madonna mia eh perché prima facevo le notti perché sento che lavoravo in aeroporto io staccavo alle 11 alle 10 e 11 stavo a casa e stavo attaccavo la live quando giocavo per watch the notte e questo coder cao alle 4 e 54 scrive escile Andrea kid l'ha bannato cioè ciao scusa non volevo ero piccolo quando l'ho scritto puoi sbannarmi poverino dai 2018 frate riammesso dai ma che è ma che è scritta una stronzata su dai stupidaggine signori la sessione di oggi è terminata potete andare e ritornare nelle vostre case a guardare la live di godomo ma il tribunale signori finisce qua spero che vi sia piaciuto quindi non so quando sarà il prossimo tribunale ma nel frattempo voi vi siete goduti questo se volete potete recuperarvi quelli passati che sono stati messi appunto sul canale principale nella playlist del tribunale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like e ricondividete commentate fatemi sapere qual è stato il riammesso non riammesso che vi è piaciuto di più ci vediamo chissà quando al prossimo tribunale forse l'anno prossimo chi lo sa chi lo sa non si sa non si sa